È passato poco più di un anno dal debutto dei primi processori Ryzen 7 di AMD, soluzioni che hanno di fatto cambiato radicalmente lo scenario di mercato tra le CPU desktop. Trascorsi 13 mesi, eccoci nuovamente con un nuovo annuncio, in questo caso i processori Ryzen 7 e 5 di seconda generazione. Esterialmente non cambia nulla, il package infatti è lo stesso come anche le schede matri, anche se, vedremo, i partner AMD hanno introdotto nuovi modelli basati su chipset X470. Le nuove CPU sono basate su tecnologia produttiva a 12nm e su architettura che viene indicata con il nome di Xen Plus. Di fatto è la stessa dei processori Ryzen di prima generazione, quelli indicati con sigla 1000, salvo alcune migliorie particolarmente interessanti che hanno permesso di ottenere un aumento delle prestazioni. Quanto? Indicativamente a parità di modello circa il 10%. Come? Beh, da un lato un incremento della frequenza di clock, due 300 MHz più alto rispetto alle CPU di prima generazione. E in secondo luogo intervenendo sulla latenza delle cache L1, L2, L3 e sulla latenza della memoria, elementi che nella prima generazione di processori Ryzen avevano destato alcuni dubbi in quanto non all'altezza di quanto offerto da Intel con le soluzioni della famiglia Core. Aumenta quindi l'IPC, instruction per clock, cioè la capacità di eseguire operazioni per ogni ciclo di clock. Detto in altri termini, aumenta la velocità complessiva del processore a parità di frequenza di clock, ma non solo, aumentano ancora ulteriormente le prestazioni perché le frequenze di clock sono un po' più elevate. Abbiamo al debutto quest'oggi quattro modelli, due della famiglia Ryzen 7, entrambe con architettura a 8 core, e due della famiglia Ryzen 5, entrambe in questo caso con architettura a 6 core. Aumenta la frequenza di clock tanto di base come quella massima via tecnologia Turbo. La cache rimane invariata per quanto riguarda il quantitativo, aumenta leggermente il TDP che passa a 105 Watt contro i 95 precedenti. Dinamica simile anche per il modello Ryzen 5 2600X. In questo caso aumenta la frequenza di clock leggermente a parità di livello di consumi dichiarato. Le altre due declinazioni, Ryzen 7 2700 e Ryzen 5 2600, sono caratterizzate da un livello di consumi più contenuto, con un TDP pari a 65 Watt. Diminuiscono le frequenze di clock massime, ovviamente, quindi c'è un piccolo impatto sulle prestazioni, ma le loro caratteristiche termiche ne permettono l'utilizzo anche in sistemi di dimensioni molto compatte, magari abbinate a una scheda madre Mini ITX. Sono altre due le novità architetturali che vogliamo segnalare. In primo luogo il supporto ufficiale alla memoria DDR4 2933, contro lo standard DDR4 2666 che era appartenente alle precedenti generazioni di processori Ryzen. In secondo luogo l'utilizzo della tecnologia Precision Boost di seconda generazione. Era presente già nella prima generazione di processori Ryzen e permetteva alla CPU di spingersi oltre alla frequenza di clock di default, operando di fatto in turbo, nel momento in cui le caratteristiche dell'applicazione e i parametri termici di funzionamento della CPU lo permettessero. Il principio di funzionamento è in questo caso identico, ma cambia il risultato finale in quanto il processore in questo momento può spingersi oltre il suo valore di default non soltanto con uno o due core occupati, ma fino a un massimo di otto. Di conseguenza le prestazioni nel confronto tra Ryzen 2 e Ryzen 1 aumenta sensibilmente nel momento in cui si hanno quei partner di utilizzo che utilizzano più core contemporaneamente e non soltanto quando è uno o al massimo due core contemporaneamente che vengono sfruttati. Tutto questo però ha una ricaduta in termini di consumi. Il processore Ryzen 7 2700X ha un consumo leggermente superiore rispetto al modello 1800X che l'ha preceduto. D'altra parte è la stessa AMD che lo afferma, il TDP aumenta a 105 Watt, ma di fatto questo non ha problemi dal punto di vista di ricadute pratiche. Abbiamo utilizzato il dissipatore di calore Wright fornito di serie da AMD, eccolo qui, lo vediamo in questo momento, è una soluzione piuttosto massiccia, ben costruita, e che non ha creato nessun tipo di problema con impostazioni standard e anche con un po' di overclock utilizzando questo processore. Parlando di overclock, altro risultato positivo della seconda generazione di processori Ryzen è una migliore gestione dell'overclock. Dal punto di vista pratico non cambia nulla, ma una riduzione della tensione di alimentazione e per l'appunto l'ottimizzazione interna grazie al processo produttivo a 12 nanometri ha permesso di ottenere margini di overclock sicuramente migliori, più interessanti, soprattutto con le versioni a 8 core. Non è difficile raggiungere i 4,2 GHz stabili con tutti i core occupati, magari intervenendo leggermente sulla tensione di alimentazione, e la barriera precedente, che era quella dei 4 GHz, viene facilmente superata, di fatto senza toccare quasi nulla. Parlando di prestazioni, quanto vanno veloci le nuove CPU? Mediamente circa il 10% in più rispetto ai modelli corrispondenti, quindi 2700X è circa il 10% più veloce rispetto al modello 1800X. Questo 10% lo ritroviamo soprattutto quando vengono sfruttati tutti quanti i core. Ovviamente con i giochi varia molto in funzione della risoluzione, ma con quella Full HD abbiamo notato un generale avvicinamento delle proposte Ryzen 7 rispetto a quanto offerto da Intel con i processori Core i7, della famiglia 8000 e quindi Coffee Lake. Di fatto quindi quel divario che in precedenza era esistente, soprattutto alle risoluzioni più basse, tende ad essere sempre più ridotto. Questo grazie che cosa? Alle varie innovazioni, ma soprattutto grazie al lavoro sulla latenza della cache, che era un po' il talone d'achille delle proposte Ryzen quando utilizzate con i giochi 3D. Per chi vanno bene questi processori? Sicuramente quegli utenti appassionati anche di videogiochi che ricerca una piattaforma con molti core, magari abbinata anche una delle nuove schede Madre X470 come quelle che abbiamo qui in prova in questi giorni in redazione. Le performance sono sempre molto elevate, di fatto comparabili alle proposte competitive di Intel della famiglia Core i7 basate su architettura Coffee Lake e di fatto ancora più interessante rispetto alla prima generazione di processori Ryzen grazie al prezzo, 329 dollari per la versione Ryzen 7 2700X e circa 100 dollari di meno per i listini ufficiali per il modello Ryzen 5. AMD quindi si conferma nuovamente come l'azienda capace di fornire il miglior connubio prezzo prestazioni per i sistemi desktop ma senza rinunciare in uno dal punto di vista delle performance. Il nuovo passaggio è una evoluzione rispetto alla prima generazione di processori Ryzen che porta a casa un ribasso dei costi e dall'altra parte un aumento delle prestazioni mediamente quantificabili nel 10%. Questo a nostro avviso non giustifica il passaggio ai nuovi processori per chi già avesse una piattaforma Ryzen anche se questo ovviamente è possibile e semplicemente necessario aggiornare il BIOS della propria scheda madre per renderlo compatibile con i processori Ryzen di seconda generazione. Questi primi quattro processori della famiglia Ryzen di seconda generazione sono soltanto il primo annuncio che AMD fa in questo periodo per le nuove CPU. Vedremo questa architettura, quindi la Zen Plus adottata anche per i processori Ryzen 3 Dripper quelli che arrivano fino a 16 core su un'altra tipologia di piattaforma destinata ai sistemi high-end desktop. Intel? Intel sta a guardare ma ancora per poco tempo perché avremo sicuramente altre novità dall'azienda americana nel corso dell'anno azienda che recentemente ha del resto annunciato nuovi processori della famiglia Coffee Lake a completare tutta la gamma con processori Intel Core di ottava generazione. Se volete approfondire ulteriormente tutti i nostri risultati prestazionali vi consigliamo di andare a leggere la recensione pubblicata sulle pagine di Hardware Upgrade il link lo trovate qui sotto in descrizione. Se vi è piaciuto questo video fatecelo sapere potete iscrivervi al nostro canale automaticamente abilitando le notifiche immediate sapete come fare e continuate a seguirci qui per tutte le novità dal mondo della tecnologia dalla redazione di Hardware Upgrade. A presto!